La domanda è Elena Donazzan o la competenza veneta, l'approccio che abbiamo alla buona amministrazione e alla pubblica amministrazione, la capacità di leggere i bisogni dei propri territori, possono essere utili all'Italia? Questa è la domanda e io spero che sia ovviamente una risposta chiara, sì. Una Veneta-Roma, magari donna, magari di Fratelli d'Italia, non sono in pochi a ipotizzare un ruolo nel possibile governo Meloni di Elena Donazzan in caso di vittoria del centrodestra. Il suo nome circola insistentemente e lei stessa sembra non escluderlo, andando oltre la formula di rito del rimanere a disposizione. E questo nelle ore in cui proprio Meloni è in pressing sull'ex magistrato trevigiano Carlo Nordio, altro peso massimo già lanciato in occasione della corsa al Quirinale. Che poi sia io, che sia un altro Veneto, anche a guidare qualche ministero importante, prima abbiamo citato Nordio. Nordio alla giustizia porterebbe questo stesso approccio, che è molto pratico, molto realistico, ma serve a tutta la nazione. Oggi abbiamo bisogno di dire che non dobbiamo più bastare ai Veneti o al Veneto, ma che il buon governo del Veneto deve diventare il buon governo dell'Italia oppure provare a contaminarlo in positivo. Elena Donazzan, assessore di lungo corso e particolare non da poco responsabile del lavoro di Fratelli d'Italia a livello nazionale, quindi sembra più che mai pronta alla campagna elettorale. Facilmente in quel collegio di Vicenza dove il segretario del PD Enrico Letta ha confermato la sua candidatura. Dobbiamo giocare all'attacco, ha detto Letta. I Veneti si ricorderanno di chi ha votato contro Draghi. E ancora, la leadership di Zaya sta per finire. Anche la Lega si è arresa. Fratelli d'Italia, le parole del leader Dem. Trovo tanta arroganza perché significa che non conosce il Veneto. Lui non è Veneto. Non è Veneto, è il segretario di partito, certo, ma sicuramente questo sarà un valore per lui, per la sua visibilità, ma è anche molto arrogante nei confronti del proprio di partito, del proprio di territorio. E che il clima sia incandescente con tanto di colpi bassi lo dimostra anche questa immagine che arriva da Treviso con Meloni appesa a testa in giù. Un copione che si ripete da quella condanna del sindaco di Spresiano, esponente di spicco di Fratelli d'Italia nella marca. In questo caso non si tratta di un gesto goliardico o di un qualcosa che potrebbe anche stare nell'ambito della campagna elettorale, quanto piuttosto di un richiamo evidente al cadavere del duce appeso a testa in giù in piazzale Loreto. Però ecco, credo che ci sia un limite a tutto. Era già accaduto quando è uscito il libro Io, Giorgia, che in alcuni scaffali di alcune librerie era stato messo il libro capovolto. Ecco, credo che ci sia un limite a tutto e stavolta è stato abbondantemente superato.